Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi un video importantissimo perché andiamo a parlare di come si fa lo speed boost di FC25 che sicuramente avete magari già visto in game o magari su qualche altra piattaforma, passo per passo, quali sono le situazioni migliori nel quale seguirlo e quali sono i giocatori che lo fanno al meglio. Mettetevi comodi che partiamo subito. Come potete vedere come al solito per questo tipo di contenuti ragazzi tengo a farvi vedere il pad a schermo in maniera tale che vedete esattamente cosa premo e quando premo. Per quanto riguarda il discorso speed boost quest'anno avrete sicuramente visto che non è più possibile performare con efficacia lo speed boost con il doppio passo. Vedete che qui il giocatore che è Vinicius che per cui il giocatore dovrebbe volare uscito dal doppio passo praticamente rallenta. Non abbiamo questa conduzione di palla fluida e veloce come capitava l'anno scorso. Quindi lo speed boost con il doppio passo ad oggi è un qualcosa che io vi sconsiglio di fare è quasi inutilizzabile perché in realtà il giocatore rimane quasi fermo. Quello che invece risulta essere ancora tremendamente efficace ed anzi al momento vista la grande cpu che c'è a difesa schierata è praticamente l'arma migliore per poter battere la stessa difesa ferma è lo speed boost L1 corsa che se qualcuno di voi non sa come si fa bisogna andare a premere come dice appunto il nome il tasto L1 in movimento. Vedete che quindi farà questa sorta di tentativo di puntare l'avversario il nostro giocatore e poi quando notiamo che si è liberato lo spazio e quello spazio lo vogliamo andare ad aggredire stacchiamo l'L1 e mettiamo dentro immediatamente il tasto della corsa. Quindi per poter fare questo tipo di speed boost in realtà basta concatenare questi due tasti vedete tutto molto semplice e il giocatore in questo caso prenderà un'ottima velocità. E visto che ci troviamo all'interno di una fase di gioco dove i difensori oltre quelli oro non è che abbiamo questi grandi difensori speciali riusciamo a batterli quasi tutti anche con giocatori che ovviamente non sono Vinicius perché come vi dicevo nel video l'ultima parte di questo tutorial sarà dedicata effettivamente a quelli che sono i giocatori con i quali poter performare al meglio questo speed boost e perché. Però prima di fare questo ci tenevo di farvi vedere tutta una raccolta di clip che ho registrato all'interno dei match di questi giorni di divisioni comunque 3-2 quindi divisioni abbastanza alte per farvi vedere come farlo e quando farlo. Come vi avevo detto andiamoci però adesso effettivamente a vedere delle situazioni di partita su come vado a utilizzare lo speed boost e come andrebbe utilizzato per poterlo sfruttare al meglio. Ognuna di queste situazioni ha delle piccole differenze in maniera tale che capiamo per bene quali sono tutte quante le situazioni. Partiamo con la prima in questo caso vedete che io sto guidando la mia transizione in uscita dopo aver recuperato il pallone con Neymar vado subito a cercare Vinicius che è la mia punta. Arrivato in questo frangente però che cosa posso notare che oltre che Vinicius sta per mettersi le mani in testa la cosa farà molto ridere il mio avversario ha due uomini intorno a Vinicius. Il primo è il suo terzino che però come potete notare dall'assenza di indicatore non è selezionato mentre l'altro è il difensore centrale che è il giocatore selezionato. Quindi visto che è lo scenario questo qui il terzino continuerà a fare questa sua rincorsa all'indietro automatica lasciando questo spazio libero mentre il difensore centrale sta cercando di venire a chiudere sull'uomo stesso lasciando quindi tutto questo spazio di luce tra virgolette libero. Quindi si viene a creare effettivamente questo corridoio e io non vado a temporeggiare troppo quindi schiaccio l1 e poi ci piazzo subito il tasto della corsa così Vinicius se ne va via in velocità i miei avversari non riescono a recuperarmi arrivo davanti la porta e purtroppo nonostante il time it verde non segno. Andiamo a vedere quest'altra situazione qui l'avversario è super in ritardo perché come potete vedere quando io recupero palla con Vinicius c'è una distanza allucinante sia del suo terzino che del suo difensore centrale da Vinicius. Quindi nuovamente io in questo corridoio senza esitare troppo per evitare che poi l'uomo possa effettivamente venirmi a recuperare su quell'intervento lì vado a premere l1 corsa me ne vado un'altra volta in porta arrivo davanti al portiere e stavolta sbaglio il time it e non segno di nuovo però l'importante è che capite come arrivare in porta. Ancora una volta qui palla con Salah la vado a dare a Vinicius e stavolta lo scenario diverso perché come potete ben vedere in questo caso Vinicius si ritrova in una situazione di 1 contro 1 perché è fronteggiato direttamente dal difensore centrale dell'avversario che in questo caso si presuppone venga a pressarmi in quella situazione di gioco quindi che cosa faccio? Vado a temporeggiare leggermente di più come potete vedere qui con il tasto dell'L1 esito un secondo e invece di andare dritto per dritto gli taglio la linea di corsa che lui avrebbe fatto sulla perpendicolare perché mi avrebbe seguito sicuramente e me ne vado sull'esterno. Quindi nonostante io mi sto andando ad allargare e potrebbe questo sembrare che non è più un'azione pericolosa io invece l'azione pericolosa la sto andando a creare perché andando a fare così Vinicius guadagna campo, batte il difensore, arrivo davanti la porta e con una sola riesco ad insaccare con questa azione facile facile. Ancora qui un'altra situazione di 1 contro 1 abbastanza simile vado a premere l'L1 un'esitazione ancora leggermente più marcata rispetto a prima e vado nuovamente in porta. Qui probabilmente c'è l'esitazione un po' più difficile delle quali vi ho presentato perché abbiamo un corridoio che non può essere preso perché qualora io provassi ad andare qui questo giocatore mi taglierebbe la linea lui sta comunque andando ad accorciare quindi riducendo quello che è lo spazio qui al centro quindi che cosa faccio? Decido di temporeggiare per vedere qual è la sua prossima mossa per capire dove andrà questo giocatore fondamentalmente che è la mia minaccia principale perché questo qui è troppo lontano in questo caso è come se fosse un 1 contro 1 con l'uomo però che in obliquo mi sta marcando perfettamente quindi io come prima temporeggio e in questo caso mi vado a scegliere una delle due linee per andarmi ad allargare e poi convergere verso il centro quindi arriviamo in questa situazione di gioco dove vado a temporeggiare mi vado ad allargare il difensore sulla switch viene battuto arrivo davanti la porta e con una suolata vado a battere il portiere quindi mi raccomando tutto quanto sta nel timing nella scelta e nel capire il difensore vostro avversario che cosa sta per fare voi dovete fare esattamente l'opposto e batterlo anche solo andando a guadagnare dello spazio che comunque con la vostra corsa poi vi andate assolutamente a sfruttare per quanto riguarda le caratteristiche fondamentali da individuare all'interno dei nostri giocatori per capire quali sono quelli che effettivamente andano a performare meglio questo tipo di speed boost oppure meno in realtà dobbiamo andare a guardare fondamentalmente tre parametri il primo ovviamente riguarda la velocità se abbiamo dei giocatori che hanno un ottimo parametro di velocità salvo rare eccezioni che confermano però questa regola questi andranno a performare comunque uno speed boost di tutto rispetto quindi se abbiamo un parametro che va dall'87 88 a salire già abbiamo un'ottima base di partenza vi dicevo delle eccezioni perché ad esempio utilizzo anche Neymar che ha un discreto speed boost nonostante abbia l'85 di velocità altri due elementi fondamentali riguardano i playstyle il primo playstyle è chiaramente quello del razzetto che come potete ben vedere in questo caso Vinicius ha dorato e l'altro è quello del rapido ovviamente anche in questo caso andiamo a valutare prima un rapido dorato come ad esempio quello di Adeyemi ciò non significa che se i giocatori che noi abbiamo non hanno questi due playstyle plus non performeranno un buono speed boost perché ci sono anche giocatori che pur avendo ad esempio la coppia di playstyle o uno solo di questi due playstyle argento hanno uno speed boost della madonna il caso di questa Loren James che ho trovato non scambiabile infatti uso da super sub che letteralmente con l1 corsa si teletrasporta quindi questi sono i tre elementi da tenere sott'occhio quindi vi verrà facile pensare a giocatori come anche Nico Williams ad esempio un altro che ha uno speed boost clamoroso è Salah che ha solamente il rapido bianco 89 di velocità quindi non hanno queste velocità allucinanti ovviamente non sto neanche a dirvi che lo speed boost più forte del gioco al momento c'è la Killian Mbappé che è letteralmente un cheat code cioè se non lo difendete prendendo campo all'indietro perché questo speed boost si difende facilmente andando a prevederlo e indietreggiando preventivamente in maniera tale che il difensore riesce ad impattare sull'attaccante che praticamente gli rimbalza addosso non lo prendete più Mbappé perché si smolecolarizza e passa e va in porta quindi mi raccomando tenete a mente questi tre elementi che sono fondamentali nella scelta e nella determinazione degli attaccanti che in questo momento sono più efficaci perché sono gli unici che effettivamente riescono a battere nell'uno contro uno i difensori visto che anche le skill al momento non sono proprio super fluide ragazzoni per questo video è tutto fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo speed boost se già sapevate perfettamente come farlo e se effettivamente vi pare un po' troppo forte però raga purtroppo è l'unica cosa che c'è da fare al momento senza questa le difese sarebbero veramente troppo forti e invalicabili come al solito vi ricordo di far girare il video con un bel like un'iscrizione sono in live tutti i giorni sulla piattaforma viola un saluto nel vostro liberoschi e a presto ciao